salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo con il terzo episodio di blow stars ragazzi è uscita la nuova stagione andiamo a riscattare tutte queste cose qua 300 punti di energia per migliorare i brawler però mancano i soldi ok queste sono le nuove missioni da fare queste invece quelle stagionali bene cominciamo con quelle giornalieri qui 60.000 punti d'anno 30.000 punti salute in a raffa gemme ok bene ci siamo cominciamo a raffa gemme un evento che io odio perché è difficile vingere poi brawler che mi sono preso non aiuta per niente vabbè uccidetelo uccidetelo ok 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 non ti fa uccidere oh mio dio si è fatta maschile lo sapevo guarda guarda sotto il torretto della vigna che a momenti mi uccide come non detto adesso siamo costretti a recuperare tutto e baffanculo però ammazzate sto qua dai salvi per ora via via va bene va bene però ho salvato il tutto era persa sta partita ma non andare lì io non lo so se questo lo fa apposta oppure ok benissimo va bene così abbiamo vinto con tanta sofferenza ma ce l'abbiamo fatto bene seconda partita va bene così abbiamo vinto con tanta sofferenza ma ce l'abbiamo fatto bene seconda partita speriamo bene speriamo bene già cominciamo a provare benissimo che cazzo è questo qua c'è un brawler c'è no forse ho capito chi è attento vabbè lasciamo stare ma questo che cazzo sta facendo cioè uccisi anche noi ma vabbè almeno ci stiamo provando noi quello stava fermo qui spara vabbè vabbè cioè non riusciamo a fare niente niente di niente proprio non riusciamo nemmeno a provare a vincere è incredibile questo è perso ma che cazzo cosa era quella cosa lì vabbè vabbè è meglio non commentare non commentare proprio perché va proviamoci di nuovo vediamo cosa succede adesso ok cominciamo bene questa partita speriamo però che non non paga tutto insomma come non dovrò cantare e che cazzo lo sapevo io per fortuna ne siamo usciti e siamo usciti bene in su via guarda questo che si fa uccidere pure come niente proprio ok 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 recuperate queste germe per favore adesso dobbiamo solo resistere dico resistere non farci uccidere come coglioni ma va bene ok va bene così bene abbiamo vinto per fortuna ok proviamo a fare la terza vittoria che ci sta che ci sta siamo fortissimi a giocare fortissimi proprio incredibili sensazionale proprio l'avevo quasi ucciso circondati ma va bene cazzo è sta cosa che lancia ogni volta non l'ho capito sto brawler di ovviamente cosa fa questo si mette in pausa gli attacchi qua uh grandissimo andiamo 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 questa è nostra dai che questa è nostra dai che questa è nostra tre secondi vittoria meritatissima non tipo altro proviamo a vincere un'altra vediamo come ci andrà a finire l'altra l'abbiamo vinta proprio non so per come per quando non so per come vabbè non sappiamo nemmeno parlare ora più va bene come dici tu vai così killalo vabbè killalo ma non parti killare cioè via via ma non via di qua via di là oh mio dio uccidetelo oh mio dio cosa sta succedendo ma cosa sta facendo questo qua e lo sapevo io lo sapevo per fortuna c'è quello ha ripreso tutto adesso ritirati sì certo si ritira quello di una gemma non quello di 9 per favore non fare cazzate abbiamo una partita in mano un secondo direi che abbiamo vinto per fortuna va bene così aumentiamo anche di grado grado 10 qua andiamo a ritirare i premi 10 gemme 640 monete che ci serviranno per migliorare i bro e questi punti qua possiamo migliorare i bro vediamo ok bene così ragazzi per oggi è tutto terzo episodio finito qui noi però ci vediamo con il prossimo bene ragazzi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.